laggiù un altro casaretto quello è quello che mi piace da morire lui lo adoro l'ho visto dentro dentro ha un caminetto e una stufa economica e degli impicci tenuto malissimo proprio solo per gli attrezzi ma sarebbe da ripulire di fare un controsoffitto un controtetto più che un assolutetto e sto mangiucando cosa mi sono portata voi lo faccio vedere globi oculari vedete sono globi oculari di cioccolata il mio tè verde alla menta due libri da leggere oggi non tricotto mi schiaffo qua e leggo ho messo ad asciugare il sacchettino dove ho messo la borraccia che non perde ma la condensa eppure all'esterno non sembra caldo volevo far vedere il bactus vedete questo effetto torsad quindi treccia è dato dalle diminuzioni e dagli aumenti così in questo crescendo praticamente diagonale ma neanche diagonale e poi ve lo farò vedere e qui c'è l'errore santa priglia vedete quanti poche maglio a poca distanza dalla punta considerate che io ho cominciato ecco un piffero cominciato ora ce l'ho ripeto aspetta aspettate aspettate vediamo un po' se riesco a bloccarlo non lo devo toccare allora ho cominciato a questa altezza il mio cambiamento di punto poi vi dico che cosa ho fatto e ho anche cercato di fare delle diminuzioni creando un effetto simile a quello ottenuto dove ho fatto gli aumenti poi ne parleremo a casa dove potrò posare il triangolo questo è un bactus un bactus originale perché ha rispettato i termini di aumenti e di diminuzioni quindi a quella distanza aumento ogni quattro ferie aumento poi ogni quattro ferie avrei dovuto fare le diminuzioni e non le ho fatte ero convinta è convintissima guardavo contavo si 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 marca punto sposta marca punto piffero e quando uno si distrae si distrae cosa faccio allora o disfo sino alla punta oppure lo tengo così mi adeguo e lo tengo per gli incontri dove posso dimostrare l'effetto d'un errore e anche questo effetto torsad che esiste se si rispetta quell'ordine di aumenti e poi di diminuzioni e scompare quando si fa una stupidaggine come ho fatto io ma succede ma non mi pregiudica nulla nel senso che dal punto di vista estetico cambia cambia poi la forma e ma la potrò comunque indossare questa cosa mi sarà utile nei momenti di didattica a me gli errori tornano utili perché quando dimostri che li fai e poi soprattutto è importante capire che cosa cambia quando si fa un errore e possono sorgere anche le idee quindi è importante considerare gli errori non solo come qualcosa di disdicevole e da nascondere e da rimediare in velocità ma anzi di verificare cosa è successo cosa ci ha dato prendere nota prendere appunti scriverceli ma anche fotografare mettere insieme ai nostri appunti una parte una campionatura di filato prendere nota di tutto soprattutto se decidiamo di cambiare progetto e ricordarsi di quello che potrà diventare un'opportunità oltretutto non solo per la didattica ma per la realizzazione di un progetto vero e proprio adesso io mi schiaffola che mi sono portata due libri che mi piacciono tantissimo questo il gusto per la lettura è in francese è un libro francese una delle chicche che mi sono regalata alla libreria in san luigi dei francesi a roma e poi la voce segretta dell'orto è un libro delizioso guardate con quali come è stato scritto alla scrittura colorata è un rosa è un bel punto di rosa e vado a leggere perché io amo gli ortaggi è meglio che qua in copertina a tutti quelli che amo la zucca non la posso mangiare la zucca mi è ostile ma pazienza noi qua ci schiaffiamo col tè la minu in libertà che ascolta i rumori della campagna sono tutti attivi è bellissimo io amo 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 l'attività campagna e non vediamo monte fiascone ma è laggiù oltre questa volto oltre volto oltre ma vabbè i miglia d'aria siamo vicinissimi abbiamo il lago vicino là c'è un altro albero in fiore quindi abbiamo visto il mandorlo quelli rosa non lo so che cosa sono fiori rosa fiori di pesco saranno ma non è che hai detto quali sono le susine abbiamo ancora le foglie su alcune querce la mia qua non ce l'ha ha varie rumentine appiccicate ma sembrano quasi dei ricci ma non riesco a vedere sono orba non capisco ora mi siedo è la terra è umidissima e morbida l'erba bassa quando ci ho mai visto pascolare pecore nei cavalli ne capre in questo prato mai non mi è mai capitato mai mai ecco ora mi siedo faccio merenda con la cioccolata adattata perché quella lì ovviamente un rimasuglio novembrino che il mio buonissimo tè verde vado mi schiaffo e leggo oggi non tocco ferro solo a casa oggi all'aperto leggo leggo la voce segreta dell'orto bellissimo poi ve lo racconto e è un libro che consiglio intanto perché è scritto colorato poi perché è bella la copertina poi non mi ricordo se me lo sono regalato se me l'hanno regalato ma è brutto quando si regala un libro fate le dediche interne così almeno rimane la memoria soprattutto alle disagiate mentali come sono io ormai proprio a memoria va e viene mi ricordo è comunque tante cose me le ricordo non crediate io certe cose me le ricordo bellissimo viaggio nell'immaginario dei vegetali è bello io trovo che i vegetali siano bellissimi ecco anche se non li posso mangiare tutti ma che ci porta quante pratoline lungo l'acqua e mezzo no l'anno scorso un sacco di fioriture stranissime bellissime erba alta fioriture dopo il come si dice la resta domiciliare di tutto il mondo svegliamoci svegliamoci cucu 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 ciao vi lascio con che cosa vediamo un po così questo mi piace vi lascio così vi lascio così vi lascio così a così ciao